salve a tutti benvenuti a questa nuova puntata di soundtrack city benvenuto massimo privitera ciao benvenuto marco testoni ciao a tutti ben ritrovati allora massimo riparli anche degli eventi musicali quelli che ci sono stati perché mi sembra che il programma era anche lì molto interessante no in questo roma film music festival 2024 molto molto interessante perché ogni sera c'è stato un concerto immersivo all'interno degli inaugurati forum theater attaccati proprio form studios e storici studi dove sono state registrate più di 3000 con e fondati da luis bagloff a piero piccioni armando trovaiole egno morricone c'è stato un omaggio ai 60 anni di james bond 007 con un concerto immersivo anche lì fatto da una parte dell'ensemble dell'orchestra italiana del cinema e poi si è dati alla fine il momento clou della di questa terza edizione con il cine concerto il film concerto di 007 skyfall con l'orchestra italiana del cinema dal vivo a sembrano con le immagini diretta da anthony gabriele dove noi c'eravamo e faremo una puntata apposita con qualche stralcio di quel cine concerto appunto alla prossima ciao massimo ciao marco buona visione grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.